oh andiamo subito dalle oia guarda che c'è la matilde c'è anche la matilde si guarda com'è grossa è bella grande questa va beh aspetta guarda qua è bellissima è proprio bellina questa qua è troppo bella no vabbè aspetta un attimo che cosa hai visto? la manoloa? no vabbè no spazienda guarda guarda che chicca no vabbè si si la foglia si si la foglia come sono bella no vabbè spazienda ascolta ma c'è anche la verticillata e vedi c'è c'è lo sai che prima si chiamava parasitica poi l'hanno chiamata verticillata adesso diciamo che la chiamano parasitica perché la verticillata